Cosa hai sotto la pancia doppia che è basso? Allora, quando vedete che è meglio dire... Era gamba. Ora, cosa hai sotto la pancia? Lui è venuto dell'altro e, essendo in televisione... Grazie Emilio per essere stato veramente molto carino e corretto. Signore. Chi è l'amico di Topolino? No, Paverino. Ne, Pluto. Uno. Pluto. Chi è il... Daniele, figlio di... Zio. Passo. Cugino. È il cugino. E chi è Daniele? Chi è Daniele? Ragazzi. Ho sbagliato io. Chi era fumante nel pipa? Brazzo di ferro. Quale? Teatro. Milanese? Eh? Famoso? Arcimboldi. Cosa? Prendi? Quando? Parcheggi? Male. Marciapiede. Cosa? È? Zero. 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 Numero telefono. No. Cosa? Regali. Per? Cioccolato. Festa? Aprile. San Valentino. Cosa? Dici? Prima? Di? Dormire. Preghiera. Quale? Non. Frutto. Anguria. Arancione. Popone. Cosa? Mangi. All'arancia. Testate. Sorbetto. Dove? Alloggi. In? Vacanza. Non inglese. Albergo. Con? Cosa? Lavi? No. E' c'è lava. Lavatrice. Dove? Vive? Il? Lupo. Ladrone. Singolato. Tana? Quale? Mestiere? Fa? Scavando? Indiana? Jones. Esploratore. Cosa? Indossi? In? Doccia. Casa? Piedi? Plurale. Uno. Cuffia. Ripartiamo. Chi? Erano? Ehm... Sovani? Amilcare? Passo. Allora, Remagiera, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, e volevamo sapere chi è Amilcare. Amilcare? Chi? Guida. Lei? Moto? 46? Ehm... Rossi. Cosa? Ehm... E? Divinità? Ehm... Segno? Zodiacale. Annika. Ehm... Uno. Cane? No. Quale? Gusto. A. Crema. E? Cioccolato. Gelato. Cosa? Fai? Allargando? La? Labbra? Mostrando? Oh. Eh? Oh. Cosa? C'è? A. Napoli? Vesuvio. No! L'hai detto tu! Vulcano. Come si chiama il Presidente della Repubblica? Giorgio. Come Giorgio? Che lo chiami così? Giorgio, senti che fai! Come si chiama il nome? Cos'è? Vinto? Da? Bundabash. Sanremo. Chi è compositore di Traviata? Giacomo Puccini. Chi faceva un cerchio? Perfetto. Leonardo da Vinci. No! Cos'è? Scritta? Da? Gianni? Verga? Passo. Cosa? Sono? Mitili? Oppure? Gnoti. Eh? Gnoti. 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 Gnoti.